registrazione video 4k da google pixel nella versione standard quindi quella più piccola faccio lo zoom digitale davanti a noi io in questo momento sto vedendo lo schermo abbastanza tremolare ma è un effetto che vedo io perché poi la stabilizzazione digitale va a compensare questi questi miei movimenti questi miei micro movimenti cambio di luce cambio di messa a fuoco molto fluido molto veloce di nuovo all'infinito registrazione video 4k google pixel quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.